salve a tutti buon primo maggio eccoci qua fire e tina ciao tina ciao fire allora sei pronta questa sera ce ne andiamo in diretta vero sì sì questa sera alle 23 su radio web station con un po di musica dance vero con un po di musica dance sì certo bene cerchiamo di farli divertire tutti quanti allora diamo l'appuntamento a questa sera alle 23 d'accordo d'accordo ciao ragazzi a stasera ciao ciao ciao